Del concetto di massa inteso come moltitudine indifferenziata e quindi omogenea in cui i singoli tendono a scomparire rispetto al gruppo si è incominciato a parlare all'inizio dell'Ottocento, dopo che la rivoluzione francese aveva visto il popolo protagonista sulla scena politica. Solo alla fine dell'Ottocento, con la diffusione dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione, soprattutto nei paesi economicamente più sviluppati dell'Europa occidentale e del Nord America, nacque quella che noi oggi chiamiamo la società di massa. Un ruolo fondamentale per plasmare questa nuova società che si andava delineando venne affidato alla scuola, non più quindi riservata all'elite sociale, destinata per nascita ad occupare i posti di maggiore rilievo, ma come un'opportunità di crescita per tutti e quindi al servizio della comunità. Per assicurare ciò non era sufficiente l'impegno della Chiesa o delle istituzioni filantropiche, ma era necessario un grosso contributo da parte dello Stato e delle amministrazioni locali. Questo tipo di scuola aperta a tutti provocava. Da una parte la resistenza delle classi più elevate, le quali erano legate ad una visione tradizionale della società e quindi vedevano questo come un'arma pericolosa nelle mani delle classi subalterne. Dall'altra c'era chi la considerava positiva in quanto lo Stato poteva diffondere i suoi valori tra le giovani generazioni e ridurre così la criminalità. A partire dal 1870, tutti i governi di Europa si impegnarono a rendere obbligatoria e gratuita l'istruzione elementare, a sviluppare quella media e superiore, a portare l'insegnamento sotto il controllo pubblico.